Il veicolo, agganciamento, l'ho preso, l'ho sporato, vado, 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 let's go rega lo prende, che figata, gli ho fatto 600, non ci credo Rega, finalmente dopo un sacco di decenni che forte non aggiungeva più nulla, è uscita una nuova cavolo di arma ragazzi, siete contenti E quale sarebbe, scusami, sarebbe un mega lanciarazzi a incudine, si avete proprio sentito Che figo, sparare le incudini quindi Ferro No, allora si chiama spararazzi a incudine, però non è che spara le incudini, scusami Sparare le incudini, ma io ho una domanda, scusami eh, ma non mettono un'arma per due anni e quello che aggiungono poi è un lanciarazzi Oh, è una cosa fighissima, scusami il lanciarazzi, cosa vorresti dire, che va schifo? Sì, no, perché vado in giro con un lanciarazzi sempre, no, nel mio inventario c'è sempre un lanciarazzi No, fa schifo, porca nulla, comunque dicono una leggenda su questa cosa, prima ragazzi di andare a lotto a provare, sicuramente distruggere tutto Che one shotta i carri armati ragazzi, e questa sarebbe una figata Prima cosa scrivetemi qua sotto nei commenti, secondo voi se li one shotterà pure, no E nulla ragazzi, direi che ci resta soltanto che andarlo a trovare e devastare tutta la lobby Ragazzi, io non voglio dirvi, ma ho qua davanti un qualcosa di fighissimo ragazzi Lanciarazzi anticarro, si chiama, cosa dico, incudine, anticarro si chiama Ma che, fermi, allora, lo posso provare, no, ci sta già ragazzi, un cavolo di carri armato agganciamento Vai, let's go, vai, è tutto rosso, 3, 2, 1, sparo, oh, con il cielo, che è un cavolo succede, va giù Oh, fermi, ha distrutto il carri armato, sbaglio, ok, ragazzi l'ha distrutto, però fermi A me mi è sembrato di leggere 600 come danno, non so se è a causa che aveva poca vita o se l'ha one shottato veramente Però, ragazzi, non riesce neanche a one shottarlo, è l'arma peggiore che abbiano mai aggiunto, te lo dico Calmati un po', per ora è una figata, scusami Allora, intanto qua ci sta una persona ragazzi, direi, prima di killarlo quasi l'orma Ok, mamma mia, l'ho laseratissimo, poverello Comunque ve lo dico, la prossima persona che vedo ragazzi gli sparo un razzo a incudine o chiamatelo come volete, anticarro perché mi piace troppo Comunque ragazzi, una cosa me la fa pensare, mi spaventa un pochettino, ma si è fatto 600 un carro armato Lo farà anche le persone, ragazzi No, non penso, cioè, one shott alle persone, non credo Sarebbe incredibile come cosa Allora, proviamola su un bot intanto, proviamo su un bot, cosa ne dite? No, però fermi Però ragazzi, bersaglia tipo le macchine, cioè, non riesco a prendere Ok, fermi, non c'è, fermi, 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 fermi Lo stavo, lo vedo Gli ho sparato, vuole in cielo Ok, fermi No, non l'ha preso Non ci credo Mi decide, mi uccide, mi uccide Ok, lo chiedo io Ma ragazzi, non l'ha preso Ma che cavolo, è stato abbastanza strana come cosa Oh, ragazzi, fermi Hanno sparato un lanciarazzi, ma non sono stato io Ragazzi, ma da dove esattamente? Non la so Porca miseria Stanno sparando una mucca Eh, refletta dove Arrivando a vedere Dall'alto, dall'alto dei cieli Non ho visto da dove Stanno dirigibile Porca vacca, sono su Giri Giri Bira Dopo la vera Avete capito No, comunque ragazzi Non riesco a dirvi Porca vacca Comunque quello sarebbe un piccolo problema Comunque ragazzi Per la scienza L'unica cosa che possiamo fare Per testare questo lanciarate sulle persone Dopo lo ritestiamo sui nemici E su di me ragazzi Quindi Mi spiace È da sopra davvero Porca vacca Esattamente Comunque Allora Carole Fizz Non fa nulla Mi sto per sparare un razzo Ragazzi avete proprio sentito bene 3 2 1 Ma ragazzi Ho sparato Dove è andato? Che cacchio ma fa il giro dell'alto Aiuto 50 No, ha tolto 100 Perché ha tolto 100 No, ha tolto 101 Se devo essere sincero Lo scudo Quello tipo aggiuntivo E più 40 Ah, ragazzi Su di me Arrivo E' forte ma per lo più con le macchine Quindi questa cosa lo rende da una parte molto molto figo E dall'altra parte un poco meno Ah, ragazzi Vero appena la serata Volete aiutarmi o no? Sono esattamente lì Lì dove Se non Hai Hai Ho sparato un razzo Ora fermi Lì vedo Lì vedo Sono in cielo Ok, allora Voi Ve lo dico Uh, let's go Fermi Allora Ci stanno le persone Può avere un'f Dove sono Di gioia Senti di sopra di me Ma è sceso Ma è sceso Ma tutto Ah, no Ah, no Ma ce n'è uno qua sopra che sta palesemente correndo Pua Allora io ho molto paura In più ho un lanciarazzo in mano E questa cosa mi può un pochettino Che tra l'altro fa schifo contro le persone Ma più che altro Per nulla Scusa una cosa In una struttura Nella quale il razzo non può uscire Che cavolo di giro fa il razzo Scusate Prova a vedere Prova a vedere Prova a vedere Allora proviamolo contro Questa cosa Questa tende Ragazzi Vado Vai Ma mi sa che è stato un po' un piccolo fail Molto piccolo fail Ragazzi guardate chi c'è qua davanti Un bel tempo Provate Sto arrivando Poverino Poverino Agganciamento L'ho preso Io ho sfrotto Vado 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 Let's go Rega Lo prende Che figata Gli ho fatto 600 Non ci credo Perfetto rega abbiamo mandato il veicolo A quel tal paese Ora il tizio poverino deve scappare con le sue gambe E questo Viratevi che è diventato veramente un problema Lo vedo No no Ci stanno altre persone Ragazzi Ahia È un team Ragazzi Allora ve lo dico Un team intero No 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 Piano Dobbiamo rimanere qua dietro ragazzi Che abbiamo un piccolo vantaggio E che Porca miseria Ragazzi Allora Tutti e tutti ragazzi Ho fatto tutto Dell'anno Oh Ragazzi Vieno per No Ma no Ma che cavolo Ma non ci credo Io c'è altra gente Non so Ragazzi Ma 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 Mi ha nascosto Mi hanno ucciso Non so come Ok Quasi ucciso Un ucciso Vai Vai Dietro i temi Sì qua dietro Dietro Verrò Dappertutto Dappertutto Me ne scappo ragazzi Provo scappare Porca vacca aiuto Ma fate schifo Rega No rega Ma dai Ma che cavolo Ci hanno ucciso Non ci posso credere Ragazzi Allora ci stanno Un sacco di tizi State molto Ma molto Molto Perfetto Allora 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 Dai Sono Scampo Per Ragazzi La Senato Uno Ucciso 29 Ragazzi Perfetto Comunque abbiamo Un sacco Dei nuovi Lanciarazzi Ragazzi Super OP Quindi Venite qua E ragioniamo Con calma Sul da farsi Ragazzi Arriva Altra Gente Allora C'è Così Qua Venite Qua Almeno Tipo Senti Cosa C'è Pogoda Continuare Di Ferro Allora Allora Repe Viene Usare lo Scudo No Che c'è Quello Scudo Illimitato Per Tutti Ragazzi Ci sta Gente Sopra I Noi Ci siamo Siamo Bili Regalo Distrutto Atterrato Bellissimo Corri Da voi Ragazzi Sono Ragazzi Cacchio Sono Chiuto Un'o Malasenato Da Ragazzi Ucciso Da me Cacchio E raga Non lo vedo Mi Prudellato Scriviamo All'esco Regalo Finalmente Morti Tutti Dovrebbe Spero Porca Miseria Ottima Cosa Ragazzi Ma chi è Capito 14 No Sopra Allora Sperare Un razzo Ok Non ho Dove Stam Ragazzi Questa Lo voglio Uccidere Con Lanzarazzi E sopra Di noi Ragazzi Qua Forse Non lo so Ma si sta Nascondendo Sì Ma non lo Troviamo Ragazzi Io qua Continuo Spararazzi Ma non c'è Scusate Ma raga Ma è sopra La cosa Spaziale Ma non ci Credo Ecco 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 Si va Ragazzi A pushare Si va A pushare Rega Ci sta Una Zip Andiamo Sunti Con Quelle Andiamo Finalmente A prenderlo Perché Questo qua Si sta Divertendo Un pochettino Troppo Sinceramente Da qua Sopra E adesso Gli diamo Una bella Lezzirma Dove Cavolare Ragazzi L'ho lasciata Un'altra Sì Se ne è scappato Ok Però c'è gente In fondo Ragazzi Si può andare A pushare Quindi Tre No Fermi Stanno Nel cespuglio Rega Forse L'esco Lanciarazzi Pro Lo dico La E' Andare A pushare Ragazzi Quindi Andiamo Il prima Possibile A distruggerli E' Dario Una bella Sistemata Rega Allora Una cosa È Un full Team Ve lo dico E Io Sono messo Male Ragazzi Perché Io Mi Mi fermi tutti Allora Ci stanno No ragazzi Mi pusha A uno di vita Sparate Ragà A uno di vita Ma come Riff Non ho Giaggio Sopravvivi Mentre Pumili Anima Aiuto Io ne ho ucciso Uno ragazzi Quindi occhio Ragazzi Sparate Di vita Sparate Di vita Sparate Sparate Ragazzi Sono Di vita Dove Però C'è la Ragazzi A uno di vita Questo Sparate Per vorre Non deve Confermarmi Non Non sta pure Ressandro Raga Andiamo subito Riff Morto Morto Ragazzi Morto Meglio Alcun Non ci credo Ce ne sta un altro Ragazzi Morti tutti Ce ne sta un altro C'è un altro Dimintero No no Sono morto Sono morto Ma dai Ma non ci credo Ragazzi Concludiamo qua Perché in partita Ve lo giuro Non si può In questa nuova season È veramente difficile Serve best Ragazzi Io l'ho sempre detto Serve best Allora Che ci porta I nabbi Nella Bravo Bravo Per quello Non si dice Però per quello Allora rega Faremo un 1v1v1 Tutti con tutti i lanciarazzi Che ci sono per ora nel gioco Quindi Prendetevi un po' di colpi Prendetevi un po' di maz Prendetevi un po' di armi Un po' di tutto E ragazzi Partiranno degli 1v1 Veramente divertenti Allora ragazzi Ve lo dico Partiamo Io e Riff Riff vale tutto E vale anche buildare Fortunatamente Cosa che non hanno aggiunto Finalmente Porca miseria Allora 3 2 1 Via Let's go Let's go Let's go Te lo dico qua Ma che cacchio Ma dai Ma Riff fa un po' schifo però Così scubido What? Che cacchio è quella roba? È il lanciarazzi quadruplo mitico ragazzi No esotico addirittura Allora Fermi 42 ragazzi No Ferro mi hai fatto cadere Cosa mi interessa Vale far cadere scusami Sì sì arrivo Vieni qua Bene Arrivo dove? Scusami Comunque primo fight così Mi spiacerebbe Ma sono troppo illegale con i lanciarazzi Powa vai Tocca a te Tocca a te Muoviti Vai Frasara Una cacchiata Allora mettiti qui Guarda Powa Lasciami un attimo Ricaricare il tutto Che partiamo subito Allora 3 2 1 Si parte Let's go Non ho ricaricato Il lanciarazzi zucca E che è uno dei miei più importanti Perché con quello faccio la differenza Lanciarazzi zucca Ah ho capito Quello intendi Questo qui No 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 Non quello Mercola Ti hai fatto cadere Sei un matto Sto cadendo pure io Tranquillo allora Oh porca No 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 Ecco qui Ma che è che sta Ma si è giocato pure tu Assolutamente no Ragazzi ma che cosa dite Stai giocando anche te Oh si Oh si ragazzi Però mi hai fatto fare Lo che trai Sì In serio Stai scherzando Sì ti giuro Sono andato dall'altra parte Che bella cosa Unica cosa è che Guarda qua adesso Cosa succede No Va brutto che ti dirai Gli cildini Sì che non pare niente Io te lo dico Ferro posso Puoi cosa No 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 Niente No 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 Vai in tavolo sono io quello scusami Grande Ti sei messo in mezzo Porca miseria Allora se lo dicono Per nulla Per nulla Guarda qua Allora Oddio Ok stavo cadendo preso sì no non ho mai preso allora io però non vale più colarsi moltissima e cacchio sedine di lasciarmi e coraggio no al posto di star l'area i razzi ma la volta c'è quel cacchio direbbe che continua a uccidere sia te che me cioè si vuole dar fastidio in italia o porca vacca allora lo dico come qua grande problema ragazzi ora io sono qua dall'alto a guardare voi che vi fai terete ve lo dico ragazzi voglio un fight fino all'ultimo osso ragazzi fino all'ultimo razzo volevo dire per certezza oh fermi ragazzi avete 30 secondi sta per finirla creativa quindi avete 25 secondi per killarvi ve lo dico voglio push push attivo è troppo forte con i razzi quindi ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti se ancora non avete fatto cosa ne pensate il nuovissimo lanciarazzi anche se non è tutto sto che anche però abbastanza figo io vi ricordo inserire il coscio ferro nelle costaggietti per supportarmi al massimo lasciate un bel pollicione su ovviamente iscrivetevi a tutti i canali ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao raga bello raga ciao ciao ciao